Un servizio alto impatto è stato portato a termine da carabinieri e agenti di polizia nei comuni di Monte Sant'Angelo e Sansevero alla ricerca di armi, droga e eventuali catturandi. Il blitz, in cui sono stati coinvolti anche i reparti speciali delle due forze di polizia, è stata una risposta alla recrudescenza degli atti intimidatori messi a segno nei primi giorni dell'anno da amministratori comunali e operatori commerciali nei comuni appunto di Monte Sant'Angelo e Sansevero. Nel centro garganico sono state controllate tutte le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale eseguiti posti di controllo rinforzati e dinamici identificati un elevato numero di persone e perquisitone alcune. Complessivamente all'esito dei controlli sono state identificate 72 persone controllate i 35 veicoli contestate a tre violazioni del codice della strada con sanzioni di rilevanti importo per un totale di circa 6.000 euro controllati anche due esercizi commerciali effettuate a tre perquisizioni personali e veicolari per la ricerca di armi e materiale esplodente. A Sansevero invece è stato arrestato in flagranza di reato un pregiudicato del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per detenzione illegale di armi. Lo stesso, dopo la perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di circa 100 grammi di marijuana, alcuni grammi di cocaina, nonché di un bilancino di precisione e altro materiale per confezionare lo stupefacente. Nel medesimo condominio è stata trovata anche una pistola a tamburo priva di matricola e oltre 1.200 euro in contanti, non riconducibili però alla persona arrestata. I militari dell'arma hanno eseguito anche sette perquisizioni a seguito delle quali hanno denunciato a piede libero un 58enne e un 20enne del posto, rispettivamente a padre e figlio, per detenzione illegale di arma da sparo. I due infatti sono stati trovati in possesso di un'antica pistola a spillo non più funzionante. Denunciato anche un 48enne del posto, già sottoposto agli arresti domiciliari, per detenzione ai fini di spaccio in sostanza stupefacente. Nel corso della perquisizione domiciliare i militari hanno trovato circa 6 grammi di marijuana, nonché strumenti per la coltivazione e il confezionamento delle dosi. Sempre a Sansevero la polizia ha arrestato in flagranza di reato un 43enne del luogo con precedenti di polizia per evasione e un 38enne con precedenti di polizia responsabile di danneggiamento aggravato. Il giovane si era reso responsabile del danneggiamento di un'autovettura di servizio della Guardia di Finanza.